Lascio invece adesso la parola al dottor Marco Di Nicola che insegna all'Università Cattolica del Sacro Cuore e lavora al Gemelli di Roma, anche con lui abbiamo condiviso alcune esperienze nella formazione, è psichiatra e ci parlerà di un tema che è stato accennato e che è centrale, cioè quello della relazione dell'ADHD con le dipendenze, che è una tematica importante sia dal punto di vista proprio teorico, quindi per capire la fisiopatologia delle due dimensioni, ma anche poi con tutte le implicazioni cliniche di complessità che si presentano. Prego, grazie. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito da parte dell'associazione, grazie per l'introduzione tema che stiamo affrontando oggi, un tema di grande interesse per tutti voi, estremamente stimolante per noi clinici, per la complessità e per l'attualità su cui ci confronteremo questa mattina insieme. Io al Policlinico Gemelli coordino l'attività clinica e di ricerca del centro psichiatrico integrato, di ricerca, prevenzione e cura delle dipendenze e dal 2018 l'ambulatorio dedicato all'ADHD dell'adulto. Quindi oggi vi presenterò la nostra esperienza clinica, integrandola con quelle che sono le ultime evidenze della letteratura scientifica sul tema della comorbidità tra ADHD e dipendenze. Quali sono i fattori di vulnerabilità? Quali le principali implicazioni cliniche? sono i fattori di vulnerabilità. Voi sapete come il disturbo da deficit di attenzione e di iperattività sia complicato da elevati tassi di comorbidità psichiatrica, quindi dalla coocorrenza di altri disturbi psichici con differenze specifiche in relazione alle diverse fasi della vita, quindi età infantile, adolescenziale ed adulta. Se parliamo di comorbidità con l'uso di sostanze in età adulta, come potete vedere questa supera il 30% in termini di tassi di comorbidità. Vi riporto un dato da una prospettiva opposta, ovvero questo lavoro metanalitico ha raccolto e analizzato tutti gli studi condotti su pazienti affetti con disturbi da uso di sostanze in cui è emersa una comorbidità per ADHD, almeno in termini di soddisfacimento dei criteri del manuale nosografico classificativo, il DSM, per l'ADHD in una percentuale superiore al 23%. Oggi abbiamo anche delle evidenze molto importanti che derivano dagli studi di Genome Wild Association. Questi studi hanno documentato chiaramente come l'ADHD correli dal punto di vista genetico con sia la dipendenza dall'alcol che la dipendenza dalla nicotina. Questo al pari di altri due disturbi psichiatrici maggiori, quali la schizofrenia e il disturbo depressivo maggiore. A differenza invece, per quanto riguarda l'associazione con il disturbo da uso di cannabis, l'ADHD è l'unico disturbo che sembra condividere una comune matrice genetica. Quindi abbiamo evidentemente diversi pattern che spiegano la rilevante associazione tra ADHD e dipendenze, soprattutto in un'ottica di traiettoria evolutiva del disturbo, quindi nel passaggio dall'età infantile a quella adolescenziale e poi la permanenza del disturbo, seppur con caratteristiche cliniche differenti, in età adulta. Questi pattern sono non specifici, è stato accennato da alcuni colleghi nella prima parte della mattinata, in termini di tendenza a comportamenti esternalizzanti, questo è un tema centrale del convegno di oggi, ovvero la messa in atto di comportamenti devianti e di disturbi invece internalizzanti. Un impatto significativo di quelle che sono le compromissioni tipiche del soggetto ADHD, ad esempio in termini di ridotta performance scolastica o accademica o maggiore purtroppo rifiuto sociale o difficoltà di interazione sociale che derivano ovviamente da problematiche di natura interpersonali e che sono aggravate da compromissioni funzionali, soprattutto per quanto attiene alle abilità esecutive. Ci sono però dei pattern di associazione tra ADHD e dipendenze che sono maggiormente specifiche e queste si traducono in un contatto precoce nei pazienti ADHD con le sostanze per varie motivazioni, con una progressione più rapida e più severa da una condizione iniziale di abuso ad una di franca dipendenza, soprattutto nel passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta e una differente risposta all'alcol e alle altre sostanze nei pazienti con diagnosi di ADHD. Pertanto è chiaro a tutti noi come sia molto complesso, soprattutto in età adulta, un corretto inquadramento diagnostico di questi pazienti. È purtroppo un problema condiviso rispetto al tema della comorbidità psichiatrica, ovvero il fatto che vi siano ampie aree di sovrapposizione clinica e psicopatologica. Cito alcune dimensioni come l'impulsività, l'irritabilità, l'aggressività, le alterazioni del tono dell'umore. Queste dimensioni possono essere estremamente comuni e transnosografiche e sono comuni ad esempio ai disturbi di personalità, ai disturbi dell'umore, ai disturbi d'ansia e alle dipendenze da sostanze e da comportamenti. Ecco perché a maggior ragione in età adulta diventa complessa la diagnosi differenziale e deve diventare ancora più accurato e preciso il nostro inquadramento diagnostico. La letteratura scientifica ad oggi ha chiaramente messo in evidenza come tra ADHD e dipendenze patologiche vi sia un'interazione reciproca che ha un impatto negativo sia in termini di presentazione clinica sia in termini di outcome nel medio e nel lungo termine. Ed ecco perché oggi siamo qui a cercare di sensibilizzare ulteriormente le persone e le famiglie rispetto alle problematiche di addiction. Quali sono i fattori che sono maggiormente associati alla comorbidità? Come vedete un contatto con l'utilizzo delle sostanze precoce rispetto alla popolazione generale ma rispetto anche ad altre categorie diagnostiche in psichiatria. Un utilizzo di sostanze che diviene più severo e che rapidamente progredisce con quello che si definisce un effetto telescopico da una condizione di abuso ad una di franca dipendenza. E poi se vorrete ci confronteremo su quelle che sono le variabili che discriminano un comportamento di addiction problematico da uno francamente patologico. Una maggiore presenza di comorbidità psichiatrica, una maggiore compromissione cognitiva, un fenotipo clinico fortemente connotato da impulsività e infine maggiori ospedalizzazioni psichiatriche, maggiore rischio di suicidalità e soprattutto di tentativi di suicidio, una peggiore compromissione funzionale sul piano delle interazioni affettivo-relazionali e sociali in generale. Vi introduco quindi la nostra esperienza, da primo condotto nell'ambito del Centro per le Dipendenze. Noi ci occupiamo storicamente di queste problematiche, abbiamo purtroppo una casistica estremamente numerosa. Questa è una prima fotografia che abbiamo voluto tracciare nel nostro ambulatorio su pazienti con diagnosi primaria di dipendenza. Come vedete circa il 50% con disturbo da uso di alcol, circa il 30% con disturbo da uso di cocaina e circa il 20% con gioco d'azzardo patologico. In questi pazienti si conferma il dato di comorbilità con l'ADHD dell'adulto in percentuali che non superano il 20%. Questo lo dico perché è molto importante anche rispetto a quanto sottolineava il collega Giupponi, avere dei dati che siano più consistenti, più robusti, più rispondenti alla realtà clinica. Dal punto di vista clinico, come vedete nei nostri pazienti, la comorbilità tra dipendenze e ADHD era associata a un'età di esordio precoce e purtroppo ad un primo accesso alle cure psichiatriche anticipato, è caratterizzato da una maggiore tendenza alla disoccupazione, a una familiarità psichiatrica che evidentemente rappresenta un fattore di vulnerabilità sia dal punto di vista biologico costituzionale che dal punto di vista ambientale. E anche sul piano della caratterizzazione psicopatologica di questi pazienti abbiamo riscontrato in percentuali altamente significative, tratti impulsivi, disregolazione emotiva e aggressività o condotte devianti. Questo è un dato, proviene da un altro gruppo di ricerca italiano in cui sono stati distinti i pazienti con ADHD e comorbilità per dipendenza in funzione delle sostanze primariamente utilizzate. Quindi da un lato vedete nella tipologia 1 pazienti che oltre ad avere una diagnosi confermata di ADHD hanno un disturbo da uso di alcol o da stimolanti. Nella tipologia 2 invece pazienti con ADHD e disturbo da uso di cannabis o farmaci sedativo, ipnotici e ansiolitici. Quali sono state le differenze che sono emerse in questo campione clinico? Per quanto riguarda le problematiche di natura legale sono risultate maggiormente associate all'assunzione di alcol, alla dipendenza da alcol e da sostanze stimolanti, quindi principalmente cocaina ed anfetamine. Mentre nel gruppo con comorbidità per disturbo di uso di cannabis e farmaci sedativo, ipnotici e ansiolitici ha prevalso una maggiore tendenza all'impulsività e un maggior livello di psicopatologia generale. In più alla valutazione con l'intervista strutturata a DIVA un sottotipo più specifico in termini di disattenzione, quindi di deficit attentivo. Quindi questo è un dato molto importante perché come sottolineava il collega dobbiamo discriminare perché le sostanze hanno degli effetti primari differenti. Non possiamo considerare sullo stesso piano sostanze come l'alcol, che è una sostanza che ha un effetto primariamente depressivo, seppur bifasico ma principalmente depressivo, da farmaci invece da sostanze che hanno un effetto primariamente stimolante. Questo è un lavoro condotto in Francia, in cui vedete pubblicato nel 2018 su una popolazione di studenti estremamente numerosa, in cui è emersa chiaramente un'associazione tra ADHD e l'utilizzo di cannabinoidi o problematiche correlate al consumo di alcol, in primis una modalità di assunzione di tipo binge drinking, ovvero la buffata alcolica, che voi sapete essere associata a delle problematiche dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista delle conseguenze psicosociali maggiori rispetto ad altre modalità di consumo alcolico. Un dato che voglio condividere con voi, in questo campione particolarmente numeroso è emersa anche una prima associazione con l'uso problematico di Internet e anche con una disregolazione di tipo alimentare in questi soggetti. Vi presento quindi quella che è la nostra esperienza invece nell'ambito dell'ambulatorio per la DHD dell'adulto, un ambulatorio che abbiamo inaugurato nel 2018, che ha visto una presa in carico progressivo di un numero crescente di pazienti negli anni a seguire, nonostante il periodo pandemico. Sono stati ad oggi valutati più di 320 soggetti, in cui un primo dato che voglio condividere con voi è il fatto che la diagnosi attraverso una batteria che abbiamo nel tempo reso sempre più articolata, complessa e che alla fine viene discussa anche in equip perché sapete bene come gli strumenti possono anche dare dei falsi positivi, per cui la diagnosi deve essere confermata comunque dai clinici e integrata con tutte le informazioni anamnestiche e con il supporto dei familiari oppure della documentazione scolastica che sia disponibile in quel momento. Quindi il dato interessante è che la diagnosi è stata confermata in più del 65% dei pazienti, ma che in una percentuale comunque non trascurabile è stata invece formulata una diagnosi differente in un'ottica differenziale, che ha portato anche a una presa in carico di queste persone che ritenevano essere l'ADHD la loro problematica preponderante e che invece presentavano dei tratti, dei sintomi sicuramente, ma non una diagnosi che potesse avere un pieno riconoscimento formale. Mettendo insieme i pazienti relativi al 2021 e al 2022, perché questi sono solo i dati relativi come vedete crescenti, ma relativi soltanto al mese di gennaio 2023, abbiamo estrapolato un campione di 99 soggetti con diagnosi esclusiva di ADHD, parliamo sempre di soggetti adulti e 46 invece con una comorbilità tra ADHD e dipendenze. Rappresentata in questo modo, quindi in principalmente pazienti con disturbo da uso di alcol, seguito dal disturbo da uso di cannabis, il nostro è un campione tra gli stimolanti di soggetti con abuso di cocaina, poi gioco ad azzardo patologico, farmaci sedativo ipnotici ansiolitici e infine oppiacei. Vi porto quelli che sono i dati, quindi dati di esperienza real world di un ambulatorio specifico con un'expertise molto robusto per quanto attiene alla valutazione e agli strumenti che vengono impiegati per lo screening e la diagnosi dell'addiction. Come vedete dal punto di vista delle caratteristiche sociodemografiche emerge chiaramente come la comorbilità tra ADHD e dipendenze sia associata a danni scolastici persi e quindi a una peggiore performance accademica, a maggiori occupazioni pregresse perse, quindi più cambi di lavori che poi si traducono in una minore percentuale di pazienti effettivamente occupati. Guardate il dato relativo alle problematiche legali, il gruppo con ADHD presente in maniera altamente più significativa, problematiche legali in generali e anche nello specifico il ritiro della patente. La compromissione clinica nei pazienti con comorbidità è chiara e lo è sia in termini di rischio di suicidalità e sottolineo di tentativi di suicidio, non di ideazione anticonservativa, ma veri e propri tentativi lifetime, così come di progressi ricoveri in ambito psichiatrico. Quindi l'ospedalizzazione, la necessità di ricovero per stati di acuzie psicopatologica. Per quanto attiene invece alla valutazione testistica e psicopatologica di questi pazienti, vi ho riportato soltanto i dati più significativi, ovvero quelli relativi comunque a una maggiore complessità psicopatologica in generale nei pazienti con comorbidità tra ADHD e dipendenze e purtroppo anche con una maggiore presenza di esperienze traumatiche infantili, soprattutto la significatività è stata raggiunta per quello che è il neglect di tipo fisico. In termini invece di impulsività e disregolazione emotiva, queste sono le dimensioni maggiormente associate alla comorbidità con l'addiction, quindi l'assenza di premeditazione, la difficoltà nel controllo degli impulsi e un limitato accesso a quelle che sono le strategie personali di regolazione emotiva. Sul piano dell'aggressività e quindi delle potenziali condotte devianti e discontrollate, l'aggressività fisica, la collera e l'ostilità sono fortemente associate alla comorbidità con le dipendenze in generale. E anche sul piano del temperamento abbiamo riscontrato delle differenze. Voi sapete come il temperamento rappresenti la dimensione più determinata dal punto di vista biologico costituzionale della nostra organizzazione di personalità. E in questo caso la comorbidità con l'addiction è associata a un temperamento di tipo ciclotimico e irritabile. Quindi vedete, questi sono pazienti reali, pazienti che noi seguiamo quotidianamente, vedete qual è l'impatto della comorbidità per l'addiction in relazione alla DHD. Ed ecco perché è fondamentale insistere sul piano della sensibilizzazione di quanto questo tipo di associazione sia pericolosa per il paziente e sia poi difficile nella gestione sul piano concreto. Abbiamo ad oggi degli strumenti anche a degli approcci che sono in grado di discriminare in maniera abbastanza accurata per quanto attiene all'aspetto sintomatologico e sindromico tra ADHD, disturbi da uso di sostanze e pazienti con vera e propria comorbidità. Quindi ci sono degli strumenti, ve ne presento soltanto alcuni, che hanno dimostrato una maggiore sensibilità nel discriminare questi pazienti. Perché lo sottolineo? Perché purtroppo l'utilizzo delle sostanze può essere molto forviante, soprattutto nelle fasi astinenziali, ma anche nelle fasi di intossicazione acuta oppure in relazione a certe specifiche tipologie di craving per le sostanze, può essere molto forviante in relazione a una sintomatologia ADHD. Quindi la nostra valutazione deve essere molto accurata e più rigorosa. Questo perché ha delle implicazioni fondamentali sul piano del trattamento. Purtroppo non ho soltanto buone notizie da condividere con voi oggi in relazione al trattamento dei pazienti con ADHD e comorbidità per addiction. Perché noi sappiamo ad oggi che trattare, soprattutto in età infantile, i pazienti ADHD con terapie farmacologiche e naturalmente prima di queste, tutte quelle di natura psicosociale, può avere un impatto positivo. Ma dobbiamo fare dei chiarimenti in merito. Ad esempio sappiamo come la terapia farmacologica, soprattutto se iniziata in una fase precoce del disturbo, prima che questo intraprenda determinate evoluzioni sul piano della traiettoria del disturbo, può avere un effetto protettivo. Ad esempio questo è stato documentato sulla sintomatologia di natura affettiva ed ansiosa. È stato dimostrato anche per quanto attiene allo sviluppo poi di disturbi della condotta o comportamenti devianti, aggressività, discontrollo comportamentale e pericolosità sociale. I risultati invece sono meno incoraggianti per quanto attiene all'uso di sostanze. Il trattamento precoce dell'ADHD con un approccio integrato sembra ridurre il rischio che il paziente a ADHD possa nel tempo ricorrere all'utilizzo di sostanze, soprattutto come forma di automedicazione del proprio disturbo. Quindi può ridurre questo rischio, soprattutto rischio che poi diventa crescente nel passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta e in questo momento si vede come la terapia non abbia un effetto poi significativo in tal senso. Così come purtroppo la terapia specifica per l'ADHD non sembra incidere in maniera sostanziale, questi sono gli ultimi dati di cui disponiamo, invece sulla riduzione dei parametri e dell'indicatore di rischio specifici per l'addiction. Purtroppo incide molto poco sulla riduzione del craving, incide molto poco sulla riduzione delle giornate di consumo di sostanze, sulla frequenza, sui quantitativi, sul rischio di ricadute. Ed ecco perché dobbiamo cercare di sensibilizzare i pazienti e le famiglie affinché queste persone si tengano il più possibile lontane dall'utilizzo delle sostanze. Perché quando questo diviene poi un problema in età adolescenziale e una diagnosi in età adulta è molto difficile tornare indietro, è molto difficile incidere e l'approccio a quel punto deve essere davvero integrato, perché se trattiamo questi pazienti esclusivamente con terapie per l'ADHD senza invece cercare di dare, non dico la priorità, ma delle risposte molto specifiche e competenze all'utilizzo delle sostanze, questi pazienti andranno incontro periodicamente a delle ricadute del disturbo da dipendenza che purtroppo causerà delle ripercussioni anche in termini di ADHD. Potete immaginare le interazioni tra farmacoterapia e sostanze e il livello di complessità e di scarsa risposta alle cure che si traduce poi in un peggior outcome clinico a medio e a lungo periodo. Abbiamo un problema, è stato sottolineato più volte, abbiamo un approccio, sarebbe un'epoca di globalizzazione, sarebbe l'epoca in cui tutti i paesi europei dovrebbero muoversi all'unisono, in realtà anche in questo ambito, ma non solo vi devo dire in psichiatria, anche per quanto riguarda la terapia delle dipendenze, ci sono degli stati europei in cui alcuni farmaci hanno raggiunto la piena rimborsabilità e invece in Italia questo non è avvenuto, quindi abbiamo delle differenze in termini normative per la prescrizione di un farmaco fondamentale nella gestione dell'ADHD come il metilfenidato e questo purtroppo si traduce nel fatto che le prescrizioni siano meno sicure e meno monitorate dal punto di vista legislativo e diciamocelo chiaramente, facciano sì che anche molti medici tendano ad assumere un atteggiamento difensivo rispetto alla prescrizione di queste molecole e voi sapete infatti che ci sono molti professionisti che nel nostro paese preferiscono non utilizzare questi farmaci, non prescriverli e abbiamo tuttora nei centri dati che si occupano di ADHD un eccessivo sovraccarico degli utenti, è una difficoltà anche di far sì che il paziente dopo una prima valutazione specialistica possa essere seguito nel lungo periodo a livello territoriale. Quindi vado alle conclusioni, quali sono i messaggi che dobbiamo portarci a casa oggi? Avete compreso come la comorbidità tra ADHD e dipendenze sia estremamente significativa e come divenga ancora più rilevante nel passaggio all'età adolescenziale e giovane adulta, non c'è bisogno di considerare il paziente il over 35enne, già nella fascia di età dall'adolescenza ai 25 anni i tassi di comorbidità per le dipendenze diventano estremamente elevati. Purtroppo questa associazione si traduce concretamente più di altre forme di comorbidità psichiatrica dove tra l'altro la terapia specifica per la ADHD determina un impatto positivo anche sui disturbi concorrenti, penso soprattutto a disturbi affettivi, quindi disturbi depressivi e disturbi d'ansia. Purtroppo questa comorbidità si traduce in un quadro clinico molto più sporco, molto più complesso, più tendente alla ricorrenza, più tendente purtroppo agli stati misti, alle ospedalizzazioni e alla suicidalità e quando la problematica di dipendenza è diventata purtroppo cronica, voi sapete che in un anno ricadono dal 40 al 70% dei pazienti che richiedono un trattamento specifico per problematiche di dipendenza. Se questo paziente soffre anche di ADHD purtroppo questo disturbo andrà incontro a una modificazione piuttosto critica che avrà un'evoluzione verso la ricorrenza e la cronicità. E attenzione perché i trattamenti specifici per l'ADHD sono utili nei casi di comorbidità per l'addiction soprattutto se iniziati nella prima fase del disturbo e quindi soprattutto in età infantile nella prima parte dell'età adolescenziale, diventano sempre meno efficaci sulla dimensione dell'addiction in età adulta, dove invece deve diventare prevalente una presa in carico integrata e specialistica per la problematica della dipendenza. L'obiettivo primario dovrebbe essere quello di aiutare una persona a liberarsi dell'addiction e voi sapete come addiction venga da un termine latino che significa schiavo in catene, affinché possa focalizzarsi effettivamente sulla ADHD e possa affrontare un percorso di cura realmente personalizzato ed efficace. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.